L'euro è molto più che la nostra moneta unica. Da oltre 20 anni contribuisce a stabilità e crescita in Europa, esprimendo i nostri valori condivisi. Ma in un mondo sempre più digitale, l'euro deve evolversi. Prepariamoci a un euro digitale. Banconote e monete continueranno a esistere, ma con un euro digitale avremmo maggiore possibilità di scelta, massimi standard di riservatezza e accessibilità a chiunque in tutta l'area dell'euro. L'euro digitale rafforzerebbe anche l'autonomia dell'Europa nel mondo digitale, aumentando la tenuta nel nostro settore dei pagamenti. Tutto questo potrebbe diventare realtà. Abbracciamo l'era digitale con un euro digitale. Grazie a tutti.